e ben a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su layers of fear 2 raga ultima puntata siamo arrivati qua nei manichini che si spostano e il brutto mostro il bruzzo mostro eccoli che si spostano infatti dice perché non si spostano via no 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 indietro 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 allora raga per dire che si spostano via 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 corri 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 no 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 raga raga per favore dai famiglia per favore dove dobbiamo andare qua labirintini labirintoni ma tu quando noi viviamo la morte non c'è quando c'è lei non ci siamo noi ma tu sei un poeta ma noi come dobbiamo fare a scappare da sto mostro raga ma boh labirintini labirintoni in mezzo ai ai cosi ah ci ha salvato il checkpoint va là via 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 ci ha salvato il checkpoint e ho capito questo spunta vedi vedi che hanno paura anche i manichini dove devo andare no 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 tu non mi vedi ecco scala 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 si è no ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta si ma mazuna ragazzi mazuna ragazzi quel mostro la insopportabile allora nuova stanza quel manichino a pezzi questo si muove sott'acqua siamo ma viaggione raga viaggione lo vediamo qua tiriamo sta leva vediamo che succede eh che diavolo dobbiamo tagli una mano qua 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 come si muove qua oh mio dio io ho finito qua non c'è una porta dove dobbiamo andare no il mostro eh c'è un passaggio qua sugli occhi oh mio dio andiamo sotto e buttati di sotto allora siamo morti no siamo ancora vivi e vegeti per ora per ora eeeh chak si gira dove siamo qua adesso un bruttumo qua le teste e i manichini guardate c'è un foglio qua 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 mi sento che puzza di mostro il suono nelle profondità sta diventando più forte bam 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 qualcosa sta arrivando chi è il mostro il brutto signore scopriremo solo vivendo però qua dove qua c'è puzza di enigmini è di qua no qua è dove siamo arrivati c'è puzza di enigmini dovevamo andare di qua se riusciamo no no ci bloccano una strada sti cosi via via dovevamo trovare una via per andare di la forse no muro invisibile andiamo passiamo così in bassi no c'è un muro invisibile dobbiamo fare qualcosa qua muro invisibile va capito se mi metti dei muri invi ah aspetta 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 cos'è qua ah il foglio dei primi se mi metti i muri invisibili io come faccio a passare ma e segne poi si vede poco oh qua ho trovato una via forse no ah ok si sale qua su meno male avevo già paura di essermi incastrato di nuovo qua c'è un foglietto qua leggiamo finalmente capisco la via d'uscita è qui in me me tu chi sei tu boh non lo so manco io non lo so manco io chi sono ecco il fuoco il fuoco dell'Easyrek chiudiamo avanza mai che arriva che arriva il mostro chiudi qua c'è il brutto quadro vai qua c'è qua nel fuoco la morte ah c'è niente andiamo qua qua non posso correre devo andare piano piano qua raga non so perchè non mi fa correre ma sicuramente ci sarà qualcosa che ci spaventerà qua c'è l'alt... ecco ecco sento già rumori strani sento già rumori strani belli miei quadro brutto ecco il loop loop dell'ansia ma si c'ho un manichino là dietro e sta pigliando fuoco guarda no 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 non voglio guardare non voglio guardare questo è ciò che accade guarda non voglio guardare guarda guarda tutti i manichini qua in terra le teste di manichino che devo guardare qua manichino c'è il coso del regista boh torniamo indietro no 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 por favor dio no non mi posso muovere no crolla proprio come detto morto? crollerai anche tu se lo dici tu però siamo tornati ok lasciamo fuori da qua va dove siamo qua? ok una porta dai apriti ok oltre non si aprono aia via ragazzo che non parla mai ho trovato una voce faccia la sede del regista tiriamo la leva? che non la tiriamo mai vai presto il mondo saprà una sarà una notte da ricordare oh mio dio ma cos'è quella roba là? mamma mia che inquietante sta parte andiamo via va andiamo via non sarò lì per vedere qua posso correre ok quando puoi correre è una brutta brutta notizia si vede di puoi anche scappare corri scappi ma sai dove andare? costruisci un personaggio e distruggi un altro ma c'è nessun altro modo il cane oh e tagli i fili oh i manichini che si buttano guarda non c'è nessuno è mai facile forse sta facendo vedere quando la nave è affondata mi sa di si perché comunque la nave mi sa alla fine non c'è giusto o sbagliato ah ecco la storia dei due ragazzini quando sbagliati ascoltami tu devi andare no non sto lasciando troppo 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 aiiaiaiai che brutta fine dire la ragazza una sorella quindi praticamente la nave è affondata questa esplosione la ragazzina è morta il ragazzino ma sicuramente saranno diventati due fantasmi e noi stiamo facendo questo viaggio ai limiti della realtà ai limiti della sbombolando a premi per continuare a ok è finito così questa è la parte iniziale questa era l'inizio del gioco spero accertiamoci che è così ma penso di sì l'inizio è l'inizio è un lupo raga devi continuare a fare la la storia ma ta hell bro o no mi sa di no mi sa di no questa parte no 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 ancora il continuo del gioco la stanza dei dei cieli e dunque siamo di nuovo qui chi è? oh mio dio ma chi è questa? quante volte è successo? non lo so 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 un artista dando un non concentrato un creatore e non lo so che è stato unapposto di costruzione in gioco ecco allora lo colore al mostro che credo che due mostri Due mostri Ma questa chi è? Non è ancora tu Non te lo sei guadagnato Se lo farai Aia Mo mi sguinzagli ai mostri Mo mi sguinzagli ai mostri Già lo vedo Mazzolei Mi fa fare delle scelte qua Ma tu vai a capire Action Finito così Madonna ragazzi Che dire Bel gioco Sti finali Un po' di sti giochi horror Sono un po' Un po' così Un po' ambigui Da capire Però Comunque Resta il fatto che è un bel gioco Gran gioco Noi abbiamo comunque fatto la storia bene Non siamo neanche morti Tante volte Però GG The layers of fear Ragazzi Sono una Veramente Una bomba Se non ce l'avete Andatelo a prendere Perché merita veramente Di essere giocato Ora Prossima serie Dovrebbe essere The Last of Us 2 Che dovrebbe uscire Il Verso Il 19 19 giugno Quindi Aspetteremo insieme The Last of Us 2 Che sarà la prossima serie Del canale Fino ad allora Godetevi video di GTA Che lo zioni Vi porta tutti i giorni video Regà Spero che Questa serie Vi sia piaciuta Grazie a tutti per l'appoggio Dei bei commenti Che mi scrivete ogni volta Hashtag Non vedo l'ora Che esce The Last of Us 2 Nei commenti Regà Spero che questa nuova serie Vi sia piaciuta Lasciate tanti bei like Lasciate tanti bei commenti E noi come sempre Ci becchiamo Al prossimo Terrore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti